adriano panzironi e le sue diete miracolose che ti fanno campare fino a 120 anni e che contrastano il tumore e le malattie più brutte adriano panzironi e vengo ora a sapere me lo ha fatto sapere su facebook su facebook l'amico mauro milea mauro milea me l'ha fatto sapere su facebook che questo madriano panzironi di cui io nulla sapevo prima è stato sospeso dall'ordine dei giornalisti per un certo periodo e ha dovuto pagare anche delle multe salatissime perché su un suo website su varie trasmissioni televisive e diceva che lui aveva una dieta miracolosa tal dei tali e che seguendo tale tale dieta si poteva campare fino a 120 anni eccetera 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 beh la notizia io ve la metto come linea riassunto di questo video beh io sono stato un professore di filosofia e storia nei dicei poi sono stato preside di ruolo nei dicei classici e scientifici e io spesso e volentieri ho parlato della mia alimentazione giovanile essendo io nato il 7 febbraio 1940 quindi ho quasi 80 anni anche anch'io c'avevo la mia dieta non ho mai mica detto a nessuno però di seguirla la mia dieta e la mia dieta era fatta di pane pane cicoria condita con del buon olio dei castelli romani e un bicchiere di vino rosso non è una dieta complicata ripeto pane pane cicoria condita con del buon olio dei castelli romani aceto e poi un buon bicchiere di vino io l'ho detto in tanti video che sono cresciuto così a pane cicoria e anche oggi anche oggi quando gli amici mi portano a mangiare a cena di solito in una pizzeria un qualche ristorantino e loro chiedono cose 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 normali io invece che chiedo soltanto che mi portino del pane della cicoria e del buon vino rosso vino rosso tutto qua tutto qua mi meraviglio tanto di questo pan pan sironi pan sironi ora l'hanno sospeso ma ripeto anch'io c'ho la mia dieta ma non ho mai promesso niente a nessuno io io ho semplicemente detto ho semplicemente detto che io sono cresciuto sono cresciuto con pane cicoria e e vino vino rosso vino vino rosso e poi ho continuato in un certo senso anche attualmente quando vado nei ristoranti io chiedo ai ristoranti pane cicoria e vino rosso tutto qua va bene ecco potete leggere la notizia nella sua interezza nel link che io metto nel riassunto di questo video ok cari amici a me quindi non mi posso sospendere nessuno eh ok cari pane cicoria e del buon vino rosso ok a tutti e ringrazio l'amico Mauro Milia ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni Grazie a tutti